non è San Giri, questa è femmina, quella è mia scala e cioè, San Giri è femmina, è normale, è stupo e che sei non da fare qua, dobbiamo andare più avanti e tu ti sei fermata qua, sta qua San Giri vediamo San Giri nooo, qua non ci sta San Giri, quella è San Gennaro lo vede sta vestita da vescovo, come può essere San Giri? questa è la Madonna, questa è la Madonna, non è possibile non ci sta nonna, mi stai facendo perdere un sacco di tempo uffa lui, mi stai facendo perdere un sacco di tempo non è cosa, va a te, fammi stare qui, va a te, non facci su aspito, questo che cos'è? ah, è già vero, ho già trovato, lo trovo questo che sta qua, non è possibile ecco questo nemmeno è lui, questa è la cance ci sta, non c'è l'altra, e quest'altra questo nemmeno è lui, non è possibile non è possibile, non è possibile scusate, vi sapete dire San Giri dove sta? San Giri qua, volete? ma qua non ci sta, questa è la chiesa di San Gennaro la chiesa di San Giri l'ha trovata un po' più avanti dopo la posta ho sbagliato la chiesa lui, perciò non l'ho trovata grazie assai, scusate sicuratevi perciò io vanno a sbagliare hai capito? abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato qua San Giri, non dici abbiamo sbagliato la chiesa? io tengo la carta di credito e che faccio la carta? ci faccio i soldi io ho promesso a San Giri e brutta figura non le posso fare e come facciamo? ebbè vuol dire che questo parroco vorrei soltare 30 volte che ci fa? il parroco? non facciamo la brutta figura di farci dare i soldi indietro allora ci faccio io brutta figura con San Giri io non la posso fare io poi torno da San Gennaro e ci porto l'offerta con lui ma ora accetto San Giri non mi vergogno questa cosa non la faccio e io non mi vergogno e ci vado ecco padre scusate dite signor ma io ho sbagliato la chiesa avete sbagliato la chiesa? sì, io devo andare da San Giro e qui San Gennaro e lo so ho sbagliato ma che ci posso fare? vabbè signor San Gennaro San Giro è lo stesso no non è lo stesso perché ora San Giro mi sta aspettando e io non posso fare brutta figura e quello mi sta aspettando ci devo portare l'offerta che figura hai fatto? capito adesso non tengo più soldi perché mio nipote ha comprato l'olio e allora che mi volete dire signor? la carta non è buona e voi mi dovete ecco l'offerta che vi ho fatta grazie ma dico io signora mia da quando sto in questa chiesa è un anno è la prima offerta decente e generosa mi spiace e la divina provvidenza se ne va così capite San Gennaro? eh vabbè no 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 ma no io non faccio più la cosa da San Gennaro io torno torno a San Gennaro spessamente e gli porto l'offerta pure a lui e non sta bene se no se non si prende con San Gennaro ma ma già hai due San Giro perché San Giro mi sta aspettando e non posso fare brutta figura ma è bene signor San Gennaro va accompagnato grazie grazie pure a voi grazie ah scusate padre ma a San Gennaro ti facesse piacere un poco di olio buono? quello proprio eh credo proprio di sì lui lo so mi rincaricato eh Luigi Luigi lo sto chiamando Luigi vieni 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 devi portare uno scatolone di olio che hai comprato qui in chiesa qua si uno scatolone ma e non lo vado a prendere infatti come dice la nonna hai capito? faccia pazienza eh scusa tanto ma della nonna è solo per cucinare questo qua sì per friggere non l'avevo? no no non ho preso quello là non c'erano più soldi ma questo è buono pure per l'insalata? sì questo è buono per l'insalata non è che mi fa male? no no non mi fa male non mi fa male non mi fa male non mi fa male no no quanto ne posso prendere? fate voi che ci ha secchi quello che volete eh è bellissima e bello no però non voglio che voi poi ci rimanete male una a voi per ricordo mi fa piacere assai a me fatelo per San Gennaro eh eh a me eh questo a voi ho capito? arrivederci arrivederci grazie 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 assai andiamo nonna andiamo nonna c'è farò eh andiamo a me che è? mi ricordo ciao 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 ciao